Senza parlare tanto, poi parliamo dopo la notificità. Prendiamo un grande applauso per Monica Power! Shin Kimbo! Guardate a vedere il film, bellissimo! Sueno, 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 scrivete! E' l'inglese il gruppo. Ok, ragazzi, mi raccomando, fate passate, sopra, finisci. Avete necessità, adattate, adattate in giro. Lo vedi? Ok, iniziamo pronti! Un applauso! Shin Kimbo! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Sìi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti